E' stato un andare lento, in silenzio, la processione di Santa Croce a Lucca. Pochi giorni prima due caduti sul lavoro mentre addobbavano a festa le vie medievali della città. Dunque niente bande musicali, niente fuochi d'artificio. Un segno di lutto atteso, ma ciò che non si poteva immaginare era il silenzio, quel silenzio. Lucca per la festa della Luminara è diventata una città muta. Riflesso visibile, questa terribile essenza di parole, del senso comunitario della città, che si è irrigidita per un attimo infinitamente lungo quando la processione è passata davanti all'unico palazzo non illuminato, quello cioè dove è accaduto il fatto luttuoso. Ogni passo di chi c'era, in qualche modo si portava dietro memorie secolari e condivisione di dolore. Lucca è una città tranquilla, ma non lo è stata nella sua festa più amata, perché morire oggi per incidenti sul lavoro non è più accettabile. Il vecchio paradigma della fatalità, che un tempo era abbastanza diffuso nel senso comune, oggi non vale più. La sicurezza sul lavoro è un diritto non negoziabile e garantito dalle leggi. Il destino non c'entra.